Benvenuti nel mondo di Tenax International, la prima società al mondo nata in Italia per progettare, produrre ed assistere spazzatrici ecologiche endotermiche, ibride e soprattutto elettriche. Tenax International ha oltre 30 anni di esperienza alle spalle ed un inestimabile bagaglio tecnico specializzato nella realizzazione di macchine all'avanguardia, alimentate elettricamente con prestazioni veramente straordinarie. Allo stesso tempo un'azienda giovane, dinamica e sempre attenta ad ascoltare le esigenze dei nostri partner e clienti internazionali, che in definitiva sono coloro che ci hanno da anni investito di un unico ed importantissimo obiettivo, quello di sviluppare tecnologie che permettono alle grandi città, enti pubblici e privati, di offrire servizi di pulizia delle strade efficienti, efficaci e ad emissioni zero. Era certamente un obiettivo che con le tecnologie disponibili sino ad alcuni anni fa sembrava veramente difficile da raggiungere, ma che grazie alla tenacia, visione e coraggio dell'azienda è stato acquisito con la prima macchina completamente elettrica già nel 2003, con l'avvento del primissimo prototipo del modello Electra 1. Da allora oltre 300 macchine sono state vendute con successo a livello mondiale e tante evoluzioni sono state apportate, proseguendo il percorso di crescita dell'azienda e di sviluppo di nuovi e certamente rivoluzionari prodotti, quali Electra 2, in versione sia spazzante che lavante, sempre più performanti e sempre più innovativi, concepiti con l'utilizzo di componenti e materiali di provenienza esclusivamente europea, con la stessa filosofia e con la stessa caparbietà, mantenendo nel tempo principi progettuali fondamentali che consentono a Tenax di posizionarsi quale leader mondiale in questo mercato entusiasmante ed in pieno sviluppo. Tutti i prodotti della gamma Electra infatti nascono sin dal loro concepimento completamente elettrici. Questo significa che le scelte tecniche in termini di pesi, dimensioni, assorbimenti e layout sono pensati per un prodotto solo ed esclusivamente alimentato a batteria. Per questo stesso motivo ed al contrario di un prodotto endotermico elettrificato, superano di gran lunga le 8 ore di lavoro costante e continuativo, sia con batterie classiche che con batterie a litio, permettendo in questo modo al cliente di apprezzare tutti i vantaggi che una tecnologia 100% elettrica può offrire in termini di rumorosità, emissioni di CO2, vibrazioni e di costi di manutenzione e consumi di carburante senza alcun limite operativo. La tecnologia elettrica che abbiamo sviluppato e che continuiamo ogni giorno ad evolvere ha raggiunto livelli di prestazione ed affidabilità sorprendenti che ci convincono ad investire ancora di più nello sviluppo di nuovi prodotti che permettano di migliorare la qualità di vita delle città in cui viviamo, incrementando l'efficienza degli utilizzatori e contribuendo, nel nostro piccolo, a creare un mondo più bello, più pulito e più sostenibile per il nostro futuro e per quello dei nostri figli.